FidelityFX Super Resolution, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi e l'abbiamo aspettata per veramente tanto tempo, quella che dovrebbe essere la alternativa di AMD al DLSS, anche se poi scopriremo che non è propriamente così. AMD ha finalmente rilasciato sia i driver compatibili, in questa giornata di oggi, poi a seconda di quando vedrete il video vedremo un po', però sono stati rilasciati gli ultimi driver con la compatibilità all'FSR, il supporto all'FSR, ed è stato rilasciato già nelle patch aggiornate ai vari giochi compatibili, che allo stato attuale non sono molti, ma ci arrivo. FidelityFX Super Resolution finalmente porta un incremento delle performance, mantenendo allo stesso tempo una alta qualità delle immagini, un po' come fa anche appunto il DLSS e abbiamo già conosciuto e visto anche durante la presentazione ufficiale di AMD di qualche settimana fa la prima applicazione, le prime applicazioni di questa tecnologia ai giochi, in particolare a Godfall, che è il gioco su cui è stato mostrato nello specifico e già sono disponibili alcuni filmati che vi lasceremo anche qua in sovraimpressione per capire un pochettino quali possono essere le differenze qualitative e di prestazioni. Secondo quanto dichiarato da AMD però questa tecnologia migliora le performance in media del 2,4x, quindi fino a due volte e mezza le prestazioni a risoluzione nativa. Quello che succede è per un certo livello di impostazioni l'FSR esiste in modalità ultra quality, quality, balanced e performance, quindi quattro livelli di impostazione, un po' come abbiamo visto appunto, lo ripeterò mille volte anche per il DLSS, con la differenza che non esiste un ultra performance in questo caso e il performance per quanto abbiamo visto a livello di peggioramento dell'immagine basta e avanza in un certo senso, ma esiste un ultra quality che semplicemente fa una scala alla risoluzione nativa di 1,3, quindi scala verso il basso la risoluzione di 1,3 volte. Rispettivamente è ovvio, questi quattro livelli di setup aiuterebbero a migliorare le prestazioni, dall'ultra quality al performance, scalando rispettivamente, chiaramente mantenendo la qualità il più intatta possibile, fino a scalare su migliori prestazioni il più possibile e peggiore qualità. AMD durante la presentazione ha mostrato alcuni esempi, come vi dicevo prima, come queste quattro modalità, FSR o FidelityFX Super Resolution è in grado di aumentare le performance di gioco, non solo sui PC ma anche sui laptop e non solo su questi, perché come abbiamo già detto la compatibilità non sarà solo con le schede AMD proprietarie, quindi le Radeon che conosciamo ormai da tempo, ma sarà anche su alcuni modelli, alcune generazioni, le più recenti diciamo, anche se prende anche la generazione 1000, delle schede Nvidia. Quindi la compatibilità sarà quanto più ampia possibile con questa tecnologia e potrete sfruttarla sia con un computer nuovo, sia con un computer di ormai qualche anno fa e questa è forse una delle più grandi forze della tecnologia AMD presentata e distribuita in queste ore. Per essere più specifici, la compatibilità è con la Radeon RX 6000, quindi le ultime che abbiamo conosciuto, comprese le 6000M, quindi le versioni mobile, 5000 e 5000M, RX Vega, RX 500, RX 480, 470, 460, processori fino alla generazione di Ryzen 2000 con grafica integrata e ovviamente schede Nvidia RTX 3000, RTX 2000, GTX 16, GTX 10, quindi fino alla generazione delle 1000. Purtroppo il lato più negativo, se così vogliamo, al lancio di questa tecnologia è la sua compatibilità con relativamente pochi giochi e non solo pochi giochi, ma giochi dall'interesse abbastanza limitato. Fate conto che il maggiore esponente che potrebbe esserci in questo momento in cui sto registrando il video e non di quelli che arriveranno è Godfall, che ha avuto un successo quanto meno discutibile in questi ultimi mesi o comunque da quando è stato rilasciato. Al momento FSR è compatibile appunto con Godfall, The Rift Breaker, Anno 1800, Evil Genius 2, Terminator Resistance e un altro paio di titoli appunto, dalla risonanza abbastanza scarsa. Quello che però lascia ben sperare, oltre al fatto che effettivamente non utilizza hardware dedicato, quindi non ha bisogno di hardware proprietario per girare, ma può girare su bene o male tutte le generazioni di schede video degli ultimi anni, è proprio la facilità di implementazione. Il punto forse più importante è quello che lascia ben sperare, perché a quanto detto appunto dagli sviluppatori AMD e dalle voci che ci stanno girando, ci vorrebbero giusto una manciata di ore per implementarlo all'interno del proprio videogioco, a seconda ovviamente della complessità varia questo tempo di implementazione. Però sicuramente un punto positivo è che potrebbe far sì che questa tecnologia arrivi sulla maggior parte dei giochi in commercio, dato che è facile effettivamente implementarla. A parte i giochi però già disponibili con FSR, ce ne sono altri che AMD ha annunciato e che sono già in fase di sviluppo, come ad esempio Far Cry 6, Resident Evil Village, Forspoken, Dota 2, Baldur's Gate 3 e tanti altri, ma non solo perché i partner proprio delle software house che hanno dichiarato di voler sviluppare la tecnologia sono moltissime e vantano nomi anche abbastanza importanti. Per il momento quindi sono la maggior parte delle informazioni che abbiamo a disposizione, quelle che vi ho detto fino ad adesso, ma noi ovviamente allo stato attuale stiamo provando la tecnologia per tornare da voi con dei contenuti un po' più approfonditi, soprattutto sulle nostre pagine, e ovviamente attendiamo lo sviluppo in più videogiochi e speriamo che questa tecnologia sia utilizzata il più possibile, perché effettivamente allo stato attuale sembra abbastanza promettente. Voi però fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, io vi lascio il link alle news relative all'FSR qua sotto in descrizione, e noi ci vediamo come al solito nei prossimi giorni con tanti altri video ancora. Ciao!